Sono stranca 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 Mi hanno detto Natia, ho cercato di salvare dei miei amici da un branco di ciarlatani li ho avvisati, gli ho detto guarda che vi stanno fregando e alla fine sai cosa è successo? Loro hanno condannato me anziché i ciarlatani che devo fare? Eh figliolo mio tranquillo, niente c'è da fare così come disse il filosofo le menti mediocri condannano tutto ciò che è oltre la loro portata Poi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.